Il rispetto è un segno di civiltà. Si deve avere rispetto di tutti e per tutti e i primi che si devono rispettare sono coloro che si ritengono essere avversari, nemici e le loro idee. Se si vuole vincere una battaglia, ma anche solo se si vuole partecipare ad una competizione, non si può prescindere dal rispetto per gli altri. Per questo non comprendiamo tutto il polverone che si sta alzando intorno alla questione della teoria di genere. In una società che si definisce civile come la nostra, una polemica del genere non avrebbe dovuto iniziare. E invece non solo è scoppiata, ma rischia di provocare una vera e propria guerra tra chi? Tra i sostenitori della famiglia tradizionale e chi vuole aprire invece la società a nuove forme di convivenza legalmente riconosciute. Pomo della discordia, l'ingresso a scuola, dell'educazione, alla parità di sesso e dalla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni. Ora diciamo, se questa formazione non la si fa a scuola, dove si deve fare? Ok, in famiglia, però anche a scuola. Come si fa a non spiegare ai bambini, ai ragazzi? Che cosa vuol dire avere genitori dello stesso sesso? È concepibile ignorare il problema in una società moderna come la nostra? Per questo è sbagliato alzare le barricate, alzare barricate ideologiche contro chi vuole portare in classe certi argomenti. Però altrettanto sbagliato è scagliarsi contro coloro che non la pensano così e organizzano per spiegarlo alla gente, incontri e convegni anche nelle parrocchie. Ci vuole tolleranza, ci vuole rispetto. I gay hanno diritto di esistere, hanno diritto di essere tutelati, salvaguardati, ma questo non vuol dire che chi non è gay deve essere messo al muro. Le diversità si rispettano per poterle superare perché soltanto una società plurale nella quale tutti abbiano diritto di cittadinanza può assicurare il benessere ai suoi aderenti e noi altro non cerchiamo che di star bene. Il bene lo può produrre soltanto il rispetto verso gli altri, soprattutto verso chi non si condivide.